Grazie. Grazie. Grazie a tutti i vostri lavori per darci questa occasione di poter esprimere quello che è il nostro disagio a proposito di questa avvertenza di Italia Online. Presidente Laus, una situazione veramente complicata, voi avete voluto ricevere i lavoratori, allora cosa hanno emerso e qual è l'impegno del Consiglio regionale? È una delle tante situazioni delicate perché queste sono quelle che emergono come la questione Embraco, secondo me ce ne sono ancora altre. Noi rincorriamo probabilmente quello che è emergenza e strutturale, bisogna fare uno studio attento secondo me da un punto di vista giuridico per evitare che si creino in futuro condizioni di questa portata. Cosa potete fare per loro? La questione richiede sicuramente tutta l'attenzione da parte del Consiglio regionale e di conseguenza anche da parte della Regione. Abbiamo ascoltato i lavoratori, abbiamo ascoltato tutta la storia, la situazione attuale e abbiamo appreso tra l'altro che si tratta di una situazione che non è determinata da una reale crisi. Quindi a questo punto chiediamo che la Regione si imponga fermamente a tutti i tavoli e che venga fermata la chiusura dell'azienda della sede torinese e poi che ci sia soprattutto anche uno stop agli trasferimenti che ci sembra nascondano in realtà l'intenzione di spingere il licenziamento, soprattutto delle mamme con figli che sicuramente non potrebbero reggere la situazione determinata da uno spostamento della sede lavorativa in una città come Milano. E questo è molto importante in un momento in cui noi comunque chiediamo che ci sia una maggiore integrazione delle donne all'interno del mondo del lavoro e soprattutto che siano ovviamente anche più servizi che le possano supportare. Quindi su questo dobbiamo assolutamente salvaguardarlo, non possiamo permetterci che siano le donne magari a pagare anche maggior prezzo in questo momento di difficoltà. L'età media è piuttosto alta, 45-47 anni, ovviamente anche difficile poterli ricollocare nel mondo del lavoro ricordando che però ci sono anche delle grandi professionalità interno di quell'azienda che la conoscono, l'hanno vista crescere e quindi su queste professionalità anche bisogna invece puntare e non emarginarle. Un altro punto che credo sia fondamentale è proprio che noi come città di Torino e nella nostra Regione non possiamo permetterci di perdere e di impoverire il nostro tessuto economico e sociale. È fondamentale, altrimenti non avremo, possiamo assolutamente permetterci di lasciare queste famiglie da sole e noi ce ne assumiamo comunque, saremo al loro fianco. La cosa surreale è che noi non abbiamo in funzione del fatto che l'Europa non ce lo permette delle leggi che possano vincolare le grandi società straniere che vengono in Italia, spolpano le imprese e dopodiché lasciano a casa i lavoratori. Io credo che la prima cosa da fare in questa situazione in cui Italia Online vive di comunicazione e vive anche di comunicazione che deve essere positiva è inchiodarli su un tavolo e far capire loro le responsabilità che hanno che non è soltanto nei confronti dei dipendenti ma nei confronti del territorio piemontese che ha visto nascere SEAT perché a me piace sempre continuare a chiamarla col nome con cui noi l'abbiamo conosciuta, SEAT Pagine Gialle che ci ha accompagnato in tutti questi anni, che ha creato delle competenze ma soprattutto che ha creato un patrimonio un asset patrimoniale importante che questa società sta depauperando e sta distruggendo. Chiederemo sicuramente un intervento forte ma non dovrà essere soltanto della regione Piemonte ma dovrà essere del Ministero dell'Industria e del Ministero del Lavoro. Ci sono delle situazioni delicate anche sul rilascio della cassa integrazione. Pare che i soldi siano stati utilizzati forse non propriamente ma che in qualche modo abbiano creato liquidità all'azienda a discapito di quelle che erano le figure professionali e il futuro dei lavoratori quindi lavoreremo dalla prossima settimana per far sì che da una parte la regione Piemonte dall'altra parte i parlamentari piemontesi possano portare sui tavoli e l'attenzione deve essere nazionale sui tavoli nazionali questa situazione per far sì che l'Italia online a Torino non debba scrivere sulla propria pagina la parola fine.